E ha tutto ciò che si muove sulla terra ed ha in sé un soffio di vita. Io donmi erba verde per nutrimento. E così fu. Ed io vide tutto quello che aveva fatto ed ecco era molto buono. Così fu sera, poi fu mattina e fu il sesto giorno.